Per ottenere l'articolo 98 le produzioni dovevano esibire un contratto di distribuzione. Molti di questi contratti di distribuzione erano fasulli, per cui le produzioni comunque prendevano i soldi, poi molti di questi film non venivano distribuiti. Alcuni, finito il film, evidentemente i migliori film fatti, riuscivano a trovare una distribuzione, ma molti altri no, e sono moltissimi, che sono rimasti in un cassetto. Una delle maggiori criticità di questo strumento di finanziamento è dovuta al fatto che la maggior parte di questi film non hanno restituito il contributo ricevuto, il finanziamento ricevuto. Questo perché, avendo problemi di distribuzione, erano film che non maturavano proventi, né in sala, né tantomeno a televisione. E questo è stato un grosso problema.